Comunità ferita da un manipolo di traditori. Si è espresso così l'ormai ex sindaco di Capaccio Pestum, Franco Palumbo, dopo la conclusione anticipata della consigliatura, sancita dalle dimissioni di nove consiglieri comunali. Denaro in cambio della mia testa, ha proseguito Palumbo. Capaccio Pestum è stata ferita da un manipolo di traditori che ha pugnalato alle spalle un'intera comunità per interessi esclusivamente personali, offrendo soldi ai consiglieri in cambio della mia testa. È una denuncia che faccio alla popolazione e alla magistratura, ma siamo forti e ci rialzeremo perché abbiamo dalla nostra parte la serenità di chi ha fatto fino in fondo il proprio dovere.